juventus allegri andare in champions ora sarebbe come vincere tre scudetti pronti ad aggiornare la contabilità dei titoli andare in champions con 15 punti di penalizzazione sarebbe come vincere tre scudetti esclama allegri prima di partire per roma doveva giocarsi un confronto diretto ma poi dirà che il nostro obiettivo in questo momento è consolidare il settimo posto e staccare il bologna per alimentare l'utopia di arrivare i quarti partendo da sotto parliamoci chiaro andare in champions con la penalizzazione è impossibile dice all'inizio ma poi corregge è difficile quasi impossibile è a quel quasi che il popolo juventino s'aggrappa naturalmente si ragiona senza tenere conto di come finiranno i processi sportivi è in quel quasi che si cela un'ambizione che allegri continua a mascherare ma che segretamente e orgogliosamente coltiva perché sa che se la centrasse sarebbe il colpo della vita qualche tempo fa aveva fissato a 73 punti la soglia del quarto posto calendario alla mano la juventus può arrivare a 77 perciò la quota indicata dal suo allenatore la può raggiungere con 12 vittorie e due pareggi quasi impossibile sì ma non improbabile punto è chiaro che molto dipende dallo snodo dell'olimpico un confronto diretto appunto ma maggior ragione dopo che la vittoria della lazio a napoli costringerà allegri a ritoccare le tabelle che meticolosamente compulsa la roma in casa ha subito appena cinque reti un record in europa viene da quattro vittorie casalinghe senza incassare gol e avrà lo stadio pieno sarà una bella sfida dice max che sembra quasi parlare della juve così spesso simile alla roma nel rendimento nel modo di giocare nell'impermeabilità della difesa nella capacità di cogliere gli attimi grazie